Buonasera a tutti i nostri telespettatori Bene, noi siamo qui perché appunto giorno 28 ottobre le elezioni regionali, Grande Sud, questa forza politica del Sud che si appresta con lei, con Titti Bufferdeci, semplicemente Titti Allora partiamo da questo slogan, io vedendo tanti manifesti più o meno roboanti con proclami un po' impegnativi di cambiamenti, di rinnovamenti, di sviluppo, di crescita Io ho detto che forse essere più realistici ed avere un rapporto più diretto e più immediato con l'elettore, con il cittadino era la cosa più semplice, era la cosa più immediata ed era la cosa più confacente alla mia persona Che credo di poter affermare ha sempre avuto un rapporto molto diretto, molto immediato, di buona disponibilità con il cittadino, con l'elettore e con il mio interlocutore Per cui ho preferito dire semplicemente Titti, cioè questo sono nel bene e nel male, la mia persona, penso che soprattutto nella città di Siracusa, ma penso complessivamente nella provincia di Siracusa E' conosciuto e ciascuno credo che possa avere una sua valutazione nei miei confronti che sicuramente ribadisco parte da questo rapporto di immediatezza e di disponibilità Io ho improntato sempre la mia vita al sorriso, alla cordialità, al confronto e quindi questo sta a significare semplicemente Titti, vediamo di percorrere insieme una strada che è complicata Perché quando parli di Grande Sud mi piace dire e ricordare che Grande Sud nasce per il convincimento che ormai i partiti nazionali hanno assolutamente fallito E noi peraltro dobbiamo ricordarlo a qualcuno che magari forse lo ha dimenticato, abbiamo assunto delle decisioni forti, in alcuni casi sicuramente sofferte Come quella di lasciare il PDL quando il PDL godeva di ottima salute Noi abbiamo fondato un partito, Forza del Sud, Grande Sud, quando sostanzialmente Berlusconi viaggiava con sondaggi molto positivi Quando stava ben saldo a Palazzo Chigi e quando poco prima aveva praticamente da solo vinto le elezioni regionali del Lazio Di quel Lazio di tanti scandali che stiamo sentendo proprio in queste ore E nonostante quindi la ottima salute di cui godeva quel contenitore politico e quella forza politica Noi ormai purtroppo convinti che quella forza politica che aveva fatto tante promesse Sulla quale tanti siciliani come me hanno creduto Sperando che effettivamente ci poteva essere l'attenzione dovuta anche a chi peraltro e nei confronti di chi peraltro Aveva dato un contributo enorme in termini di voti a Berlusconi e al PDL Ricordo che nel 2008 il PDL in Sicilia ha preso oltre il 46% dei consensi Quindi praticamente un siciliano su due ha votato Berlusconi e il PDL Ma quando purtroppo nonostante una maggioranza anche in questo caso unica nella storia della Repubblica italiana Risultati per la terra di Sicilia, per i siciliani Tranne qualcuno sostanzialmente eletto Presidente del Senato o Ministro di Diretti e Giustizia O dell'Ambiente o della Difesa o dell'Agricoltura Per il resto in Sicilia di questo strapotere del governo Berlusconi E di questa straordinaria presenza di siciliani al governo non ce ne siamo poi concretamente accorti Perché sostanzialmente la regione e la Sicilia, la nostra terra è rimasta nelle condizioni di difficoltà, di degrado, di crisi Poi aggravata dalle condizioni complessive, della crisi economica, finanziaria che è in mondiale Ci siamo convinti che effettivamente occorreva magari un atto di coraggio Qualcuno lo ha chiamato di incoscienza Che era quello di avviare per la prima volta una forte azione territoriale Abbiamo costituito Forza del Sud, oggi Grande Sud E su questa linea oggi ci stiamo scommettendo in una campagna elettorale Che anche in questo caso per la prima volta vede comunque una coalizione poter competere per vincere O comunque per essere determinante per qualunque soluzione di voto ci sarà dopo il 28 ottobre Intendo dire che questa coalizione è comunque una coalizione che porterà con sé certamente Una dote di presenza parlamentare assai significativa e che considero in ogni caso importante Per il futuro della regione siciliana Ma noi innanzitutto chiaramente giochiamo la nostra partita per vincere E siamo convinti che se sapremo trasmettere ai nostri telespettatori Così come ovviamente a tutti i cittadini siciliani, a tutti gli elettori siciliani E questo messaggio quasi referendario Partiti nazionali sì, partiti nazionali no, noi rispondiamo Partito nazionale no, partito regionale del territorio sì Segreterie romane no, rapporti con il territorio siciliano sì La Sicilia soprattutto, contro tutto e soprattutto Contro il resto del mondo, contro l'Italia e contro i paesi E contro i partiti nazionali che non ci hanno difeso Noi questo è il senso di una campagna elettorale nella quale vogliamo Poi magari se avremo occasione Parleremo evidentemente anche di un'azione che deve essere identitaria Che deve essere forte sul territorio Perché se siamo forti qua in Sicilia siamo forti anche fuori Potremo effettivamente incidere da Palermo a Roma Se viceversa non ci sarà questa forza saremo come è stato nel passato Soggetti alle vicende nazionali Quindi all'equilibrio che sono quelli che hanno scoraggiato O hanno disatteso o hanno limitato la capacità siciliana E quindi sotto questo profilo noi ci auguriamo di poter Trasmettere questo messaggio Di poterlo veicolare nella maniera corretta e giusta Per potere, io dico spesso la frase, io ci voglio credere Perché non c'è ombra di dubbio che, ribadisco, è sotto gli occhi di tutti Il fallimento della politica nazionale Nei rapporti del Sud e della Sicilia in modo particolare E quindi io mi sono convinto fortemente che l'unica nostra speranza Che l'unica nostra chance è quella di far sì che effettivamente Partendo dal territorio ci possa essere un momento di cambiamento Di miglioramento e tutto questo va accompagnato da forte autocritica Perché non c'è dubbio che si sono commessi molti errori Che bisogna modificare anche dal punto di vista della nostra testa Della nostra quasi educazione nel rapporto con gli altri Tante cose per poter sperare in una Sicilia migliore Ma io a questo voglio credere e per questo mi sto battendo Grazie a tutti